Se il tuo hotel non compare su Google Maps, questo è il video giusto per te. Non perdertelo! Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre dedicato al mondo delle strutture ricettive, in questo caso vedremo perché il tuo hotel non compare su Google Maps e se non compare, credimi, vuol dire che hai un grosso problema che devi risolvere immediatamente. Ma prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale attivando le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. E poi, se volete scoprire i servizi di Social Media Hotel, troverete il link al mio sito in descrizione per poter prenotare una chiamata gratuita e conoscitiva. Ma veniamo al punto della questione di questo video, all'argomento di questo video. Bene, parliamo del nostro hotel, della nostra struttura ricettiva che non la troviamo in nessun modo su Google Maps. Bene, prima di entrare nel vivo, però, vi voglio raccontare una storia. 2018, subito nuova dipendente di questa struttura ricettiva, quattro stelle, che era una nuova gestione, quindi non ero nuova solamente io, come sempre, come faccio anche adesso tramite il mio metodo Social Media Hotel, cerco di ricreare il percorso del cliente. Bene, questo cliente come ci trova? Come fa ad arrivare fino a noi? Quindi le ho provate effettivamente tutte, tant'è che ho trovato il nostro sito, la nostra struttura su siti dove non ci dovevo stare con foto del 15-18, ma a un certo punto arrivo a fare il mio solito controllo su Google Maps. Ebbene, l'hotel non c'era, non scompariva in nessun modo, anche zoomando il più possibile. Quello che trovavo al suo posto era il nome della società che all'epoca diede poi nell'albergo in gestione ai miei nuovi capi dell'epoca. In quel caso abbiamo risolto tutto, come tramite la scheda di Google Business Profile. All'epoca Google My Business. Ve ne parlo tante volte, se seguite i miei video, ne ho affrontato sempre questo argomento da diversi punti. Oggi parliamo della sua importanza della scheda di Google Business Profile per comparire su Maps. Ve ne ho già parlato quindi, quindi sapete benissimo che Google Business Profile è gratuito, ma è fondamentale per la ricerca locale. Ma anche non solo per questo, nel momento in cui io sto organizzando un viaggio e vedo quali sono i posti di interesse di una determinata città, faccio in modo di localizzare anche gli hotel che sono strategicamente posizionati meglio. E se il vostro hotel non compare su Maps e voi potete vantare una posizione super strategica, ve ne capite bene che state perdendo delle occasioni davvero importanti di intercettare la vostra futura clientela. perché non tutti vanno solo attraverso Booking o Expedia. C'è chi come me fa invece una ricerca molto curata anche per posizionamento della struttura. Bene, ma come fare per far comparire la nostra struttura su Maps? Magari l'avete anche creata la vostra scheda di Google Business Profile categorizzando bene la vostra struttura come albergo. Voi continuate a dire ok, bene, ma continuo a non uscire. Vedete capire che Google Business Profile funziona con un algoritmo il quale si basa su una serie di fattori. E quali sono questi fattori? Sono le informazioni che voi andate a inserire all'interno della scheda di Google Business Profile. Quindi cosa dovete fare? Quando la create e finalmente arriva il codice dove andate a rivendicare la vostra attività? Bene, poi che succede? Bene, l'impostata come albergo finisce qui. Mettete orari di apertura H24, mettete un numero di telefono, l'indirizzo siete costretti a inserirlo sin dall'inizio e l'abbandonate. Ma questa scheda soprattutto per quanto riguarda la ricerca locale premia la pertinenza delle informazioni. Quindi se io inserisco una serie di informazioni, anzi completo quella che è la mia scheda, nel momento in cui poi le persone effettuano la ricerca, bene, noi andremo a essere posizionati per pertinenza e quindi uscirà la nostra scheda rispetto a quella magari dei nostri competitor. Quindi magari possiamo puntare alla sostenibilità se abbiamo soluzioni per disabili, orari di apertura, posizionamento e così via. Le informazioni che possiamo inserire possono essere davvero tante e ci possono permettere di far comparire la nostra scheda lì sullo schermo degli utenti o su Google Maps. Attenzione però, poi non stiamo parlando di posizionamento nelle prime ricerche quando le persone ne fanno una ricerca di hotel magari a Milano nella barra di ricerca. Qui parliamo proprio del posizionamento su Maps e della scheda che magari da desktop vi esce sulla destra. Questa qui che vi faccio vedere qui di lato. Bene, questa è una scheda Google Business Profile e attenzione Google non vi chiama, non vi chiama per promuovervi delle promozioni per uscire sempre voi. Assolutamente. Questa è assolutamente gratuita. Quindi attenzione quando vi chiamano. Questa cosa non è possibile farla. Ovviamente per comparire su Google Maps e migliorare il proprio posizionamento quando ci vengono effettuate poi le ricerche. Il mio consiglio è quello di verificare sempre l'attività e poi di gestire le vostre recensioni. Ve lo dico sempre. Ogni volta che tratto il tema delle recensioni entra in ballo sempre Google Business Profile perché non deve essere mai ignorato in tutto questo pacchetto. Allora per quanto riguarda Google Business Profile soprattutto se godete di tantissime recensioni positive quelle dovete rispondere perché Google vede un interesse da parte delle persone, vede tutti questi feedback positivi ma vede anche una cura, un'attenzione del cliente da parte vostra. Quindi non solo Google vi premia migliorando la vostra visibilità ma allo stesso tempo un cliente che legge tante recensioni positive può decidere molto più facilmente attraverso la social pluff, la riprova sociale di scegliere poi voi come alberdi. Poi ve l'ho detto diverse volte come funziona la ricerca di Google Business Profile. Abbiamo parlato prima di pertinenza quindi nel momento in cui io scelgo un albergo a Milano però io mi trovo magari a Taranto, bene lui comunque mi mostrerà gli alberghi che sono a Milano, mi mostrerà qualcosa che è vicino a me. A differenza di quando facciamo una ricerca per distanza e dove io ho attivata la geolocalizzazione io scrivo magari hotel oppure hotel vicino a me e quindi che cosa farà Google Business Profile? Mi farà vedere tutti quelli che sono attorno a me. Non mi andrà per esempio a cercare hotel a Milano oppure magari se torniamo al discorso della pertinenza io posso dire hotel a Milano sostenibile e quindi se noi abbiamo inserito che abbiamo delle caratteristiche che ci impegniamo nella sostenibilità bene Google Business Profile farà vedere il nostro hotel rispetto a qualcun altro che questa informazione non l'ha inserita perché magari non si tratta di una struttura sostenibile. e poi ovviamente c'è l'ultima caratteristica sulla quale discriminante per la quale Google Business Profile fa vedere o meno la tua scheda quindi parliamo dell'evidenza quindi strutture più o meno famose delle poste che verranno queste mostrate per prime ovviamente se sono pertinenti con la ricerca del nostro utente quindi magari se c'è un hotel che rispetto a noi ha magari 500 recensioni positive sulla scheda e noi stiamo iniziando solo adesso è molto probabile che se è pertinente con la ricerca fatta dall'utente su Google verrà mostrato prima quello è differente però nel momento in cui noi siamo su Maps vedranno tutti gli hotel che sono in una determinata località sulla quale loro stanno effettuando la ricerca quindi capite bene quanto l'inserimento di informazioni accurate può fare la differenza anche dalla vostra presenza su Google Maps non sottovalutate questo aspetto perché a volte ho letto di case stadi di attività che sono arrivate alla chiusura perché praticamente non esistevano hanno sottovalutato tutto questo aspetto e mano a mano sono scomparse dalla ricerca e dall'intercettare poi quelle che sono viaggiatori o comunque clienti perché case stadi di questo tipo li ho letti tantissimi non solo però per strutture ricettive ma anche per diverse tipologie di attività infine un ultimo consiglio che voglio dare per migliorare la vostra visibilità su Google Maps è quella di inserire le foto della vostra struttura quindi non aspettate che siano gli utenti a farlo attraverso le loro recensioni ma ogni tanto fate vedere a Google che ci siete anche voi che aggiornate la vostra scheda e allo stesso tempo aggiornate eventualmente i loghi ma anche le foto che potete pubblicare online quindi io spero che questo video vi sia stato utile se non trovate il vostro tele su Google Maps correte immediatamente ai ripari quindi che cosa fare? iscriviti a questo canale così da non perdere altri video utili come questo e poi il prossimo step qual è? quello di cliccare nel link che trovi in descrizione per prenotare subito una chiamata conoscitiva con me e scoprire tutti i servizi di Social Media Hotel io ti aspetto nel prossimo video Besos! membri una bella eskalna